È il momento di parlare dei precedenti. La curiosità tra Carpi e Pescara non è mai finita in parità. Cinque vittorie dei Bianchazzurri, la prima nel 2012 in Coppa Italia sulla panchina del Pescara, appena promosso in Serie A con Zeman, c'era Stroppa. Agosto 2012 segnò il gol della vittoria, Elvis ha bruscato, quel Carpi militava in Serie C. Gli altri precedenti, ma a Carpi li vediamo nelle immagini. Sì, questo è il precedente del 2014, Carpi batte Pescara 2-0, allenatore del Carpi Beppi Pilon, la rete di Di Gaudio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. In quella formazione c'erano sia Pesoli che Memusciai. Questo è il palo colpito da Caprari nel secondo tempo su calcio di punizione. Lo rivediamo al rallenti, sfortunato nella circostanza l'attaccante Bianchazzurro e poi il rigore, il fallo di mano di Balzano sul dischetto Sgrigna che infila Pelizzoli. Carpi batte Pescara 2-0. Arriviamo con le immagini al 2014-2015, c'era Baroni in panchina, Svarione di Zuparic. Grande opportunità fallita da Roberto Inglese, attuale attaccante del Parma, ex Pescara, cresciuto nel Vivaio, grande intervento però di Fiorillo. Il vantaggio dei Bianchazzurri, l'allenatore del Carpi era Fabrizio Castori. Mette la quarta, Zampano l'assist per Sanzovini che in diagonale fredda il portiere del Carpi. 0-1 il raddoppio. Stiamo rivedendo l'azione di Zampano che è stata strepitosa e poi la girata precisa di Marco Sanzovini. Il raddoppio sugli sviluppi di questo calcio di punizione battuto da Politano. Il tocco sotto misura di Birkir Bjarnason. Carpi 0-2, era il marzo 2015. Quel Carpi poi fu promosso, una vittoria storica in Serie A. Il Carpi che riuscì a accorciare le distanze con Sambione e che ha deciso il match dello scorso anno dello stadio adriatico Giovanni Cornacchia. Questa invece è la vittoria, l'ultima della Pescara, 30 settembre 2017. L'attacco della profondità di Cullibali servito da Balzano. Palla in mezzo, gol di Cristian Capone. Carpi 0-1, 30 settembre 2017.